Sono passati pochi giorni dalla riapertura delle scuole, ma già il tema del sovraffollamento dei bus che coprono le tratte casa-scuola ha iniziato a preoccupare non poco le famiglie, imponendo a Regione e gestori del trasporto pubblico locale una riflessione su come intervenire per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme anti-Covid a bordo dei mezzi. Nasce nel solco di questa esigenza l'iniziativa del gruppo regionale del Movimento 5 Stelle, che ha pensato di mappare le principali criticità legate al sovraffollamento per poi sottoporle a Regione e aziende. Per farlo il Movimento ha creato sul proprio sito regionale una piattaforma online che permette di compilare un modulo ad hoc. Abbiamo ricevuto in questi giorni diverse segnalazioni, quindi abbiamo voluto raccoglierle all'interno di questo modulo online che è accessibile a tutti coloro volessero appunto segnalarci questo tipo di criticità, che essenzialmente sono tre, ovvero il mancato rispetto della capienza massima all'80%, i bus sovraffollati che non consentono addirittura agli studenti di salire a bordo e la mancanza dei dispositivi di igienizzazione. Numerose le situazioni già rilevate attraverso il sito. Anche sulla provincia di Bologna ci segnalano criticità sia sulle linee extraurbane che sulle linee urbane. Un caso eclatante è quello ovviamente della fiera, ma anche sulle linee extraurbane che vanno a Monghidoro, come per esempio linee che partono dall'autostazione o quelle che vanno a Calderara. Quindi i casi sono molteplici e credo che in questi giorni aumenteranno. Grazie alle segnalazioni sarà possibile programmare interventi mirati. Abbiamo già fatto una commissione su questo e naturalmente alcune questioni sono già state portate all'attenzione dell'assessore. Questo è un lavoro in più che vogliamo fare in senso propositivo, proprio perché, come dicevo, la Giunta non monitora direttamente e allora è giusto che chi vive queste problematiche sul territorio abbia la possibilità anche di interloquire, se non direttamente, ma magari anche attraverso questa che è una modalità, di far sapere dove sono esattamente le criticità per anche mettere nelle condizioni chi detiene la possibilità di fare qualcosa, di farlo e quindi significa mettere più autobus oppure riorganizzare, diciamo così, le corse proprio per consentire il rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid. Grazie a tutti.